Te 18 panchine quante ne cancelleresti? Un paio sicuro, l'ultima di Livorno la cancellerei perché sono stato un asino io a andarci perché era una situazione poco positiva. E anche Verono, ho accettato la C quell'anno perché... Sai perché ho accettato la C? Perché avevo appena ricevuto dal presidente del Bologna Cazzola che dovevo venire io a Bologna in B. Dovevo andare a firmare con Salvatore, mi ricordo, e Salvatore alle due e mezza avevamo l'appuntamento e disse guarda il presidente ha preso Arrigoni. Sono rimasto talmente male da questa cosa. Mi è arrivato il Verona e mi ha detto facciamo la Juventus della C, è venuto a casa, ho firmato e dico andiamo via. Ma ti ha mai spiegato perché? Ma perché? Non lo so, probabilmente aveva un rapporto, non lo so, ha preferito lui. E' una cosa legittima, non sto mica dicendo. Però io ci sono rimasto, come si suol dire, insomma. Hai perfettamente ragione. Passo la firma.